Una folta delegazione della sezione Tuffi della Trieste Nuoto guidata dalla vicepresidente Barbara Pozzan con i dirigenti Augusto D'Alessandro ed Emiliano Poboni, la responsabile tecnica Ibolia Naghi, gli allenatori Max Brick e Sigrid Deriz e la campionessa Noemi Bhakti è stata premiata nel pomeriggio di giovedì nella sera giunta del comune di Trieste dal sindaco Roberto Cosolini. Dopo lo scudetto femminile ottenuto nel 2011-2012, le ragazze della Trieste Nuoto sono riuscite ad aggiudicarsi anche al scudetto 2013-2014 che tiene conto delle presentazioni sia dal trampolino che della piattaforma, raggiungendo così anche il terzo posto assoluto maschile e femminile nel campionato italiano per società. Consegnando nelle mani Duemi Bhakti la targa ufficiale del comune per la sezione Tuffi della Trieste Nuoto, il sindaco Cosolini ha voluto complimentarsi per gli importanti risultati ottenuti frutto del serio e professionale lavoro di dirigenti, tecnici e atleti della società. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie buon Natale, ha detto Cosolini, di continuare anche nel 2015 e fare bene lo sport e chiamate con passione ed entusiasmo senza trascurare la scuola. Però il ringraziamento per il riconoscimento sono venute anche dalla vicepresidente Barbara Polzar che ha voluto evidenziare le validità della squadra.